Il 7 giugno scorso le associazioni ambientaliste hanno depositato un ricorso al Tare per quanto riguarda la centrale turbogas Snam di Sulmona. De Santis, quali sono le ragioni che vi hanno spinto a questo gesto forte? Perché l'INGV, non proprio un passante, cioè il maggiore ente esperto di terremoti in Italia, ha depositato una relazione in cui si dice che il rischio sismico dell'area dove vorrebbero costruire la centrale è doppio rispetto a quello calcolato da Snam. Un documento che emerge solo grazie al nostro accesso agli atti e che doveva essere reso noto prima al pubblico, come invece è stato tenuto fra le carte, si è detto che Snam si deve adeguare, però questo studio smentisce tutti i documenti alla base di questo percorso amministrativo, in particolare la valutazione di impatto ambientale del 2011 che era quella che ha fatto scegliere quel posto in base a dati sul rischio sismico completamente sballati. L'INGV dice che il rischio sismico è doppio rispetto a quello calcolato da Snam, peraltro anche solo recentemente. incredibile che i tecnici del Ministero della Transizione Ecologica abbiamo preso per buoni i documenti di Snam. Lo studio dell'INGV viene dopo 15 giorni l'ok dato dai tecnici del Ministero della Transizione Ecologica, questo fa capire anche il livello di superficialità con cui vengono valutati questi documenti. Noi diciamo che queste opere fossili devono essere abbandonate, i cambiamenti climatici sono ormai in una fase già drammatica, non noi ma l'Agenzia Internazionale dell'Energia dice che nuove opere sul metano non devono essere più fatte, peraltro le nostre infrastrutture sul metano sono anche sovradimensionate rispetto alle necessità che abbiamo, dobbiamo abbandonare sempre più il metano e realizzare oggi opere facendole pagare sulle bollette degli italiani e facendo fare profitto a Snam e folle farle oggi per farle durare decenni quando appunto noi già sappiamo che quelle fonti fossili devono essere abbandonate praticamente oggi.